Io sono Giulio Baraldi, sono un produttore di cinema nonché un attore, un regista e ho voluto presentare questo progetto a Marco Gobetti perché credo sia molto interessante e anche molto rivoluzionario provare oggi a girare un film solo attraverso l'utilizzo di un cellulare, un'apparecchiatura che tutti abbiamo a disposizione. Il lavoro con i ragazzi sarà proprio questo, cioè andare a scoprire le potenzialità del loro smartphone per poter realizzare appunto un film. Sarà un lavoro quindi pressoché pratico, soprattutto pratico, diviso in tre momenti. Il primo momento sarà introduttivo, teorico, ci darà la possibilità appunto di dare ai ragazzi i primi elementi del linguaggio filmico, cioè come raccontare una storia attraverso delle immagini, quali sono le regole per poter chiarire il dove, il cosa e il come di un film. La seconda parte del lavoro sarà soprattutto pratico, sperimentale, quindi i ragazzi una volta apprese queste prime nozioni avranno la possibilità di muoversi, di girare i loro primi video e quindi insieme andremo a vedere quando e come un video funziona, quando riesce a raccontare qualcosa e soprattutto vedremo come migliorare anche il lavoro, il risultato di questi video. La terza parte sarà specifica, quindi lavoreremo non più soltanto su delle suggestioni, ma lavoreremo su una storia, un vero e proprio soggetto, che nel nostro caso è la tragedia della libertà di Marco Gobetti, perché grazie a questo lavoro, grazie ai materiali che produrremo in questo laboratorio, avremo la possibilità di fare veramente un film, quindi di utilizzare questo materiale come preparazione per un vero e proprio cortometraggio che gireremo nel 2021. Quindi questo lavoro diventerà anche produttivo, diventerà utile per realizzare un vero e proprio film nei prossimi mesi.